Il vero amore non è fisico né romantico, il vero amore è l'accettazione di tutto, ciò che è, è stato, sarà e non sarà. L'inaugurazione di una panchina rossa è stata al centro della festa di Natale dell'Istituto Comprensivo di San Nicolò. Con i pennarelli i ragazzi hanno scritto simboli e parole per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza sulle donne. A partire dal discorso del papà di Giulia Cecchettini, i ragazzi di tutte le classi secondarie della scuola Gandhi di San Nicolò hanno fatto una riflessione contro la violenza alle donne. È stato un momento in queste settimane, è stato un momento continuato, seguito dai docenti che ha avuto come evento finale questo dell'inaugurazione di questa panchina rossa. Bisogna partire da loro, dalle nuove generazioni perché si diffonda sempre di più una cultura di parità di genere tra gli uomini e le donne e tutti gli esseri umani e soprattutto che gli episodi di violenza sulle donne davvero diventino un ricordo lontano. Sappiamo che la strada è ancora molto lunga, però abbiamo la speranza che con questa panchina che riporterà simboli, parole, frasi scritte dai ragazzi chiunque passi di qui si senta colpito nel profondo e faccia una riflessione e sia di animo propenso a non continuare alla violenza sulle donne. La panchina rossa si trova di fronte al plesso delle medie di via Ungaretti, un simbolo di partecipazione e di rispetto che ora è patrimonio dell'intero paese.